Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato 800 039 036 La musica è la mia vita! Questo è il voce della notte. Radio Radio By Night Roma 104 e 5 FM. Iniziamo, iniziamo. Come va da quelle parti? Abbiamo gli inviati del By Night Roma dal vivo, Tiziana Kamelin, Valerio Russo. Sì, eccoci. Allora sì, siamo qua sul palco, stavolta c'è veramente per mento perché loro sono tanti e tutti schierati in linea perché... Ah, tutto il pubblico adattivo è schierato? Sono tanti, sì, sì. Cioè tutti gli artisti sono schierati che guardano? Loro sono i CS, sì, quelli che tu prima hai chiamato CSI e il pubblico si è, tra l'altro, devo dire che c'è una bella partecipazione perché invece di starsene ognuno a tavolo suo, sono tutti avanti per vedere le esibizioni degli altri. Allora intanto, CSI, carrellata di nomi e presentazione, allora tu sei? Allora, io sono sul continente, io faccio cantautore. E nella vita che fai quando non canti? Studio all'Università della Sapienza e la Scienza della Comunicazione. Hai capito? Hai capito? Andiamo dalla Sosia. Io sia il melodico e quando faccio musica studio Ingegneria Aero Spaziale. Ah, Ingegneria Aero Spaziale! Una robetta. Sì. Tu invece sei? Io sono l'Issi e faccio lingue. E fa lingue, tu per ultimo sei un ultimo ma non un ultimo? Sono Stefano e studio musica. E studio musica. Allora, loro sono i CSI, li stiamo per andare ad ascoltare. Loro, devo dire la verità, il ritmo sarà un po' diverso dal rock che avete sentito dall'inizio della puntata, però questo è il bello di By Night Roma. Allora, che cosa facciamo? Li vogliamo ascoltare? Assolutamente, certo. Siamo pronti per farli ascoltare agli ascoltatori della notte di By Night Roma. Mi raccomando, potete continuare a chiamare in diretta 800-039-036. Oh, cioè, se siete usciti, ci potete raccontare cosa avete fatto. Tra l'altro, stiamo in attesa di sentire Sofia. Sì. Sofia! Che sta lì appiattata, sotto casa, appiattita, sotto casa dell'ex fidanzato, ha spiato. No, diciamo la verità, si è organizzata col termos, cioè è passata prima a casa. Sì, sì, è proprio tecnica, c'è la canadese. Sofia, se ci stai ascoltando, noi vogliamo sapere gli sviluppi, quindi anche se non si vede e ti sta incazzando puoi chiamare, insomma. Sì, sì, noi vogliamo sapere se si è accesa la luce, se vedi le ombre che passano dietro le tende. Se hai chiamato l'amico a l'amica, sai queste cose qua, per sapere che fine ha fatto, robe del genere. Se hai fatto finta di essere il metronotte che passa, suona il cidofono e controlla se va tutto bene. Una roba del genere. Sì, sì. Allora, loro sono i sì e sì, ve li abbiamo presentati, c'è un po' di tutto, dalle comunicazioni all'ingegnere allo spaziale alla musica. Insomma, c'è un po' di tutto, devo dire la verità, loro sono i sì e sì, quindi ci caliamo nel ritmo latino e loro ci cantano. Il clima latino è quello che poi, secondo me, è legato molto bene all'estate. Giustissimo, ragazzi, quindi cercate di pompare adesso perché potrebbe essere il vostro nuovo danza Kudruro dell'estate prossima. Kudruro? Kudruro si chiama. Kudruro. 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 Perché devi far finta di sapere le cose che non le sai? Ragazzi, io... Quanto viene una penna della Montblanc? 310 euro di partenza. Hai visto? Che hai detto? Allora, loro sono i sì e sì e ci presentano un altro degli inediti che ascolterete questa sera. Loro ci cantano. Amazona! È la Luciana Morelli che prepara tutto, naturalmente. Non è che sbaglia lei, eh? Cioè, quando prepara le cose non si sbaglia mai. Radio Radio by Night Roma. Radio Radio by Night Roma. Presenta i nuovi talenti della notte romana. Che belle queste cose a me, me fomentano! Sto scherzando, ascoltatore. Sì. Sì. È tutto dal vivo, eh? Senti che arrangiamenti? Mueve el pelo, calienta el fuego, mueve su cuerpo, inicia su juego. Perché muere il pelo, calienta el fuego, mueve su cuerpo, inicia su juego. Come, mercenario, la jungla, la jungla, la jungla, vi una mujer como en Zunga, como en Zunga. No hay mara, era india, gucunga, selvaje, pal bunga bunga. Io la voy a domar, io la voy a domar, io la voy a domar, io la voy a domar. Tocar, domar. Sto scherzando, con ella la quiero pasar. Io le dico Manaona, per che me entiendas la Amazona. Io la chequeo por toda su zona. Hai con la Toshi e ora, selvaggio e pura. Conmigo pasa chula, desnuda su hermosura. Per a mi esto es locura. Mueve il pelo, calienta il fuego, mueve su cuerpo, inicia su juego. Perché muere il pelo, calienta il fuego, mueve su cuerpo, inicia su juego. Mueve il pelo, calienta il fuego, mueve su cuerpo, inicia su juego. Perché muere il pelo, calienta il fuego, mueve su cuerpo, inicia su juego. Amazona, come on. Amazona. I'm dancing, dancing for the night, won't you stay here by my side? This is a lot of pleasure, know the way better, know the way better. I know, yeah, I know, yeah, I'm begging for some more. This is the place of your dreams, boy. Tonight we are making you scream, boy. Let you step go to the rhythm, the rhythm of this game to, the rhythm of this game to, never sing the... Mueve il pelo, calienta il fuego, mueve su cuerpo, inicia su juego. Porque mueve il pelo, calienta il fuego, mueve su cuerpo, inicia su juego. Sul continente, dieci al melodico, sui gangsta, lì in si. Welcome to the Amazon. Eccoli qua, Tiziana Camelin che ci ripresenta. Allora loro erano i CSC, allora vogliamo sapere assolutamente dove vi possono trovare, come possono riascoltare i pezzi che ci state presentando durante le dirette di By Night Roma. Allora, noi siamo in italiano CSC e ci potete trovare su YouTube, c'è proprio il canale dove c'è anche il video di questo pezzo che abbiamo fatto e il pezzo è molto bello perché siamo noi dei mercenari che andiamo nella giungla e troviamo l'Amazzoni, quindi Amazona sarebbe Amazzoni e in spagnolo. E quindi noi siamo i CSC e in italiano CSC. A Roma come vengono chiamate queste, scusate? I CSC. No, queste Amazzone. Le Amazzoni. Valeo Russo, queste Amazzone a Roma come vengono chiamate? Amazzoni. Le Amazzoni. A Roma? Se ti pianta la di Sisebidio Giordani. A Roma? A Milano? Amazzoni. No ragazzi non ci siamo, non c'è della Pai Night Roma. No, no, soprattutto sto cercando di limitarti ma tu cerchi appoggio altrove. Due e cinque minuti, grazie. Poi andranno avanti gli ospiti, giusto? Andremo avanti, ringraziamo adesso i CSC che hanno per noi, calato un pochino l'ambiente latino nella serata della diretta di Pai Night Roma.